Mi raccomando si la guarda la mucca ma non cercare di mangiarla quelle più grosse di te Ehi Maggie Buongiorno Maggie la mucca Sei così retardataria Dove li stai fatti mongerata dal bovaro La mucca è un animale utile per il latte e il burro Adesso ci stiamo Inoltre Appartiene alla specie Bostaurus Come il toro e il bue Guardate Maggie sta montando l'erba Le mucche hanno quattro stomaci a differenza delle persone Ragazzi, uomini, ragazze, donne E' un'altra differenza degli umani E' anche la cora Come le puzzole e le volpi Solo che l'ha erungolato Ciao